Siamo con il ricercatore storico autodidatta appassionato di storia locale Michele De Lucia che oggi vuole mostrarci qualcosa che probabilmente nessuno di noi conosce si tratta di una raffigurazione che ritrae un antico palazzo della città di Andria di cosa stiamo parlando nello specifico? Questo è un palazzo che fu demolito in inizio del 1900, rinascimentale nel 1400 che fu portato a una mostra internazionale nel 1898 c'erano altri palazzi che adesso non ci sono più nelle mie mostre l'ho messo questo palazzo adesso sta in piazza La Corte sempre però stile 900 come ci sono ancora che io ho datato, che nessuno ha trovato molti torioni ad Andria, veniva chiamata la città dei torioni e io ho catalogato parecchi questi torioni che tutti quanti sono quella cattedrale, un'altra piazza ma ci sono molti questi torioni del XIV-XV secolo che ci sono ancora le basi Quello che vuoi dirci è che comunque c'è un'enorme differenza tra il palazzo che è immortalato in quell'immagine che ci hai mostrato in parte e invece il palazzo così come oggi sono stati apportati dei importanti interventi di restauro che ne hanno cambiato le forme e i particolari Sì, ma è molto trasformato in stile 900 quello che sta adesso invece prima era molto bello per portare a un'espostizione internazionale nel 1898 signi che era un palazzo importante all'epoca io posso mettere un sacco di cose inedite però non è che io ho dei fondi che mi aiutano nessuno mi aiuta dimostrerò un'altra foto ancora Grazie a tutti